Buongiorno amici, comincia oggi una nuova settimana di borsa, come al solito vediamo insieme quelle che sono le notizie più importanti dal punto di vista finanziario che possono impattare sul mercato. Lunedì 27 agosto, in Inghilterra sarà un giorno festivo e ben holiday per tutta la giornata, mentre alle ore 10 dalla Germania arrivano i dati sull'indice IFO, indice che rileva la fiducia delle aziende in Germania, determinando quindi qual è il sentiment attuale. Martedì 28 agosto, in Inghilterra ci sarà un'udienza per conferire sul report sull'inflazione, cioè tutte quelle che sono le misure da adottare per combattere l'inflazione, mentre alle 16 dagli Stati Uniti arrivano i dati sul rapporto sulla fiducia dei consumatori. Un rapporto che serve appunto a valutare quella che è la situazione dei consumi interni negli Stati Uniti. Mercoledì 29 agosto, alle 14.30 dagli Stati Uniti i dati trimestrali sul PIL Alle ore 16 invece i contratti pendenti di vendita di abituazioni, ancora un dato per misurare il settore immobiliare americano. Alle 16.30 il classico dato sulle scorte di petrolio greggio. Giovedì 30 agosto, alle 9.55 dalla Germania i dati sulla variazione della disoccupazione. Venerdì 31 agosto, alle ore 11 un dato di carattere europeo, il classico indice dei prezzi al consumo. Bene, queste erano le notizie dell'ultimo giorno di questa settimana. Ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con Amica Borsa.